questo programma è offerto da per un caffè senza limiti nasce omnia la macchina da caffè universale con moduli intercambiabili per capsule nespresso dolce gusto a modo mio caffitali caffè in cialde e macinato in offerta lancio con moduli in espresso e dolce gusto inclusi più 50 capsule in omaggio e emporio del caffè dopo ogni avventura oltre ogni tua aspettativa i due giovani in carcere per il tentato omicito di roberto bembo rispondono alle domande della gip l'accoltellatore si informa sulla condizione del ferito e chiede perdono la loro linea difensiva abbiamo reagito una aggressione controlli intensificati durante il periodo natalizio dei nas su casse di riposo rsa 4 delle 11 ispezionati in provincia di avellino con criticità funzionali e strutturali segnalate le autorità competenti primo giorno di saldi all'insegna della programmazione i consumatori passano in rassegna prezzi e vetrine prima di effettuare l'acquisto giusto la scelta prevalente finirà su abbigliamento e calzature da domani a domenica la mostra all'eliseo di avellino di 50 opere di andy warhol il genio della pop art che ha elevato opera d'arte le icone della cultura di massa 85 anni di forino picchiato dai ladri rischia di perdere un occhio intorno al sabatino pierro pensionato a 600 euro al mese scatta la rete di protezione di carabiniere e servizi sociali il fratello dice rapinato già sei volte il presidente della regione de luca dispone la ricognizione su condi e infrastrutture di alto calore si interfaccia con i giudici fallimentari sentenza attesa per primavera ma da febbraio entra in campo il ministero e rianimazione il 44 anni agricoltore travolto dal trattore nelle campagne di prato la serra nell'incidente ha subito gravissimi danni a una gamba operato d'urgenza al moscati iper bimbo è lo store specializzato in prodotti per l'infanzia personale qualificato e cortese offre alle mamme ai neonati le soluzioni giuste per ogni esigenza dal momento della gestazione fino alla crescita del bambino prodotti alimentari igiene quotidiana abbigliamento giocattoli vasta scelta di culle e passeggini seggioloni per auto e ogni tipo di accessorio tante offerte convenienti che si rinnovano sempre nel segno della qualità e della sicurezza per il rispetto di mamme e bambini iper bimbo è a mercogliano in via nazionale torrette con ampio parcheggio e a benevento presso il centro commerciale i sanniti iper bimbo la vita è meravigliosa benvenuta l'informazione di tele nostra che apriamo con la pagina della cronaca chiedo perdono così uno dei due giovani indagati per intentato omicidio di roberto bimbo ha detto rivolgendosi al magistrato che lo ha interrogato questa mattina nel carcere di bellizzi nell'udienza di convalida del fermo lo stesso giovane insieme all'altro indagato in carcere non si è avvalso della facoltà di non rispondere al gip prima dell'interrogatorio lo stesso giovane che chiesto perdono ha chiesto al giudice notizia sulle condizioni del ferito nel pomeriggio arriverà la decisione del giudice si è prima informato delle condizioni di roberto bimbo poi attraverso il magistrato che lo interrogava ha chiesto perdono e quanto emerge dall'udienza di convalida del fermo dei due giovani indagati per il tentato omicidio di roberto bimbo colpito da tre coltellate nel parcheggio di un bar in via nazionale a torrette di mercogliano a chiedere perdono è stato uno dei due 23 anni accusato insieme al fratello di uno dei due di tentato omicidio l'udienza preseduta dal gip paolo cassano si è svolta in presenza dei difensori dei tre indagati gli avvocati galatano a fiero e stefano bozzella hanno risposto alle domande del giudice fa sapere l'avvocato a fiero e si sono difesi fornendo la loro versione dei fatti la loro reazione così hanno spiegato è stata la reazione ad una provocazione il giudice contesta in particolare ad uno dei due giovani in carcere da domenica sera dopo che si erano spontaneamente costituiti di essere l'autore materiale del ferimento che ha ridotto in fin di vita bimbo secondo la ricostruzione degli investigatori della squadra mobile ricavata da testimonianze immagini e delle telecamere installate nella zona avrebbe raggiunto alle spalle la vittima colpendola al volto con i tirapugni e poi lo avrebbe accoltellato un colpo ha raggiunto bimbo al collo sfiorando la carotide le sue condizioni restano gravi e vengono costantemente monitorate dai sanitari del reparto di rianimazione del moscati ha versato 800 euro di anticipo per l'acquisto online di una macchina agricola ma l'offerta pubblicata sul sito era una truffa i carabinieri di rioni sono riusciti a risalire ai responsabili un ventenne un trentenne di napoli che hanno intascato la somma accreditata su una carta prepagata entrambi sono stati denunciati a piede libero l'autorità giudiziaria controlli intensificati durante il periodo natalizio dei nas su case di riposo rsa 4 delle 11 ispezionate in provincia di avellino con criticità funzionali e strutturali segnalate alle autorità competenti oltre 600 le ispezioni e i controlli dei carabinieri del nas effettuati durante le festività natalizie in tutta italia che hanno riguardato residenze sanitarie assistenziali case di riposo case famiglia e comunità alloggio 152 le strutture risultate irregolari 27 persone denunciate per violazioni penali e 133 gli illeciti amministrativi contestati sei strutture sono state chiuse i controlli hanno riguardato anche le strutture dedicate alle persone anziane nelle province di salerno benevento javellino in particolare sono state ispezionate 11 strutture sociosanitarie assistenziali in 4 di esse sono emerse criticità organizzative funzionali o strutturali letti non correttamente posizionati mancanza di arredi accessori assenza di corrimano in alcuni servizi igienici piatti doccia sopraelevati rispetto al pavimento in particolare per quanto riguarda la provincia di avellino i controlli compresi quelli della sicurezza alimentare sono stati complessivamente 350 con 169 sanzioni elevate e la segnalazione dall'autorità giudiziaria di 67 persone i carabinieri della stazione di montella hanno denunciato un sessantenne del posto per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere nella serata di ieri l'uomo ha fermato montella alla guida di un auto all'esito di perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello il sessantenne non ha fornito ai militari operanti una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto il coltello è stato sottoposto a sequestro il sessantenne è già noto alle forze dell'ordine definito in stato di libertà la procura della repubblica di avellino da domani a domenica la mostra all'eliseo di avellino di 50 opere di Andy Warhol il genio della pop art che ha elevato opera d'arte le icone della cultura di massa dopo lo straordinario successo del premio internazionale intitolato ad Ettore Scola l'ex cinema eliseo un altro appuntamento prestigioso e da non perdere con Andy Warhol è in america artist a cura di raffaele de felice ad avellino 50 tra le opere più importanti del genio incontrastato della pop art con una mostra di questa portata non solo incrementiamo l'offerta culturale ma valorizziamo ulteriormente un luogo di arte e socialità come l'eliseo dopo anni di buio scrive il sindaco gialluca festa la mostra dedicata ad Andy Warhol rappresenta per la città di avellino uno stimolo ulteriore a vivere l'arte e farne un patrimonio collettivo su cui investire sicuri che possa offrire lo spunto soprattutto per le nuove generazioni ad aprire più bassi orizzonti le porte dell'ex cinema eliseo si aprono alla grande arte pop da domani 6 gennaio e sarà possibile visitarla fino al 5 febbraio dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20 un percorso espositivo che spazzerà dalla celeberrima Campbell's Soup all'iconica Marilyn Monroe in un viaggio straordinario nel mondo voreliano un vero e proprio percorso nell'universo dell'artista che racconta l'attualità della sua ricerca e del suo sguardo sul nostro tempo l'85 anni di Forino piccato dai latri rischia di perdere un occhio intorno a Sabatino Fierro pensionato a 600 euro al mese scatta la rete di protezione di carabinieri e servizi sociali fratello Giovanni dice è rapinato già sei volte Sabato Fierro l'85 anni picchiato a sangue da malviventi a caccia della pensione nella sua casa Chelsea di Forino rischia di perdere un occhio i pugni sferrati con inaudita violenza dagli sciacalli infatti potrebbero aver provocato una lesione oculare alla vittima del prestaggio l'anziano già soccorso dai sanitari del 118 si sottoporrà presto a una visita specializzata stamane l'anziano ancora sotto sciocca preferito a non uscire per strada quasi barricato tra le mura di casa Sabatiello presso a botte dai repinatori riesce a camminare a stento anche per la vista compromessa dei colpi ricevuti sulla vicenda in dai con i carabinieri i malviventi in tre con il volto occultato da cappelli neri sarebbero entrati in azione nel tardo pomeriggio di martedì i banditi secondo i primi accertamenti avrebbero raggiunto il tetto dello stabile a due piani di via due principati all'ingresso della piccola fazione di Forino dopo aver infranto una finestra si sarebbero portati nel sottotetto dopo aver forzato la porta della camera da letto hanno aggredito l'85enne intimandogli di consegnare la pensione quando l'anziano ha riferito di non avere soldi è stato preso a pugna scalamentato sul pavimento i rapinatori dopo aver messo a soccuattro le stanze dell'appartamento si sono dati alla fuga con le mani vuote ma sporche di sangue il sangue di una persona fragile in difesa come il povero Sabatiello da tempo mio fratello è finito nel mirino di una banda di balordi avverte Giovanni Fierro non è la prima volta se verificate tante di quelle volte ora ci abbiamo la pancia piena cosa significa significa che le cose non funzionano dalle Alpi alla Sicilia non c'è niente da fare chi di dovere fa qualcosa pensa che sia la stessa banda che entra in azione che abbia puntato suo fratello io dico che la criminalità è sempre la stessa non è che aumenta o diminuisce sono sempre gli stessi e ha invitato più volte suo fratello sempre viene la revolte e lo deve prendere pure con la forza portarla a casa perché la sua volontà io rispetto alla sua volontà perché lui così vuole il miracolo ne posso fare tutto qua chiede però giustizia per suo fratello e la giustizia fra il suo il suo corso tempo permettendo se siamo fortunati si riesce a capire chi è e chi non è anche se lo sappiamo alla fine dei conti non viene mai punito mai nessuno mai nessuno il sindaco di forino olivieri promette massimo impegno per proteggere sapatino fierro e garantire insieme ai carabinieri alla giustizia i responsabili del massacro purtroppo l'episodio ha colpito enormemente la comunità vedere quelle immagini del nostro concittadino ridotto in quel modo ci ha veramente amareggiato siamo vicini a lui alla sua famiglia e vogliamo mettere in campo tutte le azioni possibili per evitare che tutto ciò si possa ripetere rabbia e dolore per l'aggressione subita da sabato fierro l'85 anni picchiato a sangue da tre malviventi nella sua casa di celsia a forino punito perché aveva riferito di non avere soldi l'immagine dell'anziano con l'occhio tumefatto e volto pieno di libidi ancora tamortito per i colpi subiti ha indignato la comunità di forino i carabinieri hanno avviato la caccia alle belve battendo già l'altra sera tutta la zona al tappeto nel tentativo di risalire responsabili della brutale aggressione sabato fierro vive da solo gli acciacchi all'età avanzata lo rendono un soggetto vulnerabile ma nella prima volta che la sua abitazione viene violata dai malviventi il pericolo è che altri sciacalli possono fargli del male va assolutamente protetto il sindaco di forino antonio olivieri promette il suo impegno per tutelare l'anziano più volte facile vittima dei balordi come amministrazione comunale siamo consapevoli che una delle attività in primis da attuare è quella della videosorveglianza che non risolve il problema ma sicuramente pone un freno entro il 31 dicembre c'era il bando abbiamo partecipato e speriamo vivamente che questa volta arrivino anche a forino i fondi per realizzare questa infrastruttura per quanto riguarda invece la vicenda di sabatiello ci sarà un'attenzione particolare da parte del comune anche da parte delle forze dell'ordine sicuramente ci sarà un'attenzione maggiore al nostro concittadino perché come voi ben sapete non è la prima volta che è avvenuto tale fatto sono stati attenzionati i servizi sociali e ai carabinieri della locale sezione seguono il caso con attenzione e sicuramente sicuramente cercheremo di fare il massimo per trovare i responsabili intanto sabatino resta là in quell'abitazione per il momento sabatino resta là quanto prima vorrei anche avere un confronto sereno con i propri parenti per capire se è possibile come dire dare un maggiore comfort a sabatino Cambiamo pagina primo giorno di saldi all'insegna della programmazione i consumatori passano in rassegna prezzi e vetrine prima di effettuare l'acquisto giusto la scelta prevalente finirà su abbigliamento e calzature Primo giorno di saldi in Campania oggi ad Avellino c'è davvero tanta gente lungo corso Vittorio Emanuele come potete vedere dalle immagini tanti uomini e donne che stanno girando per i negozi alla ricerca del capo da acquistare in modo scontato secondo la conf esercenti il budget di quest'anno si aggirerà intorno ai 136 euro pro capite ci sarà un meno 20% di spesa rispetto allo scorso anno noi abbiamo ascoltato diversi acquirenti c'è chi ha iniziato a fare già lo shopping realizzando anche dei propri sogni pensando a se stessi ma è soltanto il primo giorno tanta gente all'interno dei negozi vedremo nei prossimi giorni come si evolverà la stagione promozionale Primo giorno che cosa abbiamo acquistato? Un paio di stivali Questi saldi hanno un budget da spendere oppure in base a quello che trova le occasioni acquisterà? Quello che mi serve sì, senza esagerare Al momento non ho ancora visto nulla, siamo usciti da poco quindi sì ci stiamo guardando intorno ma in fondo oggi è la prima giornata Budget da spendere con i saldi ce l'ha? Non c'è budget, senza budget, ogni tanto ci vuole senza budget Shopping con i saldi? Sì 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 Cosa ho comprato? Ho comprato un paio di stivali e una borsa, tutto per me Tutto per me Finalmente ogni tanto facciamo i regali anche a noi stessi? Infatti mi hanno chiesto nel negozio un regalo, dico sì è un regalo per me Abbiamo comprato qualcosa di utile, di idea bellezza? Per lei o per qualche famiglia? Per la famiglia, un po' per tutti Un budget, non so cosa spenderà, già ha deciso una somma per lo shopping? Quello che occorre in effetti, non c'è una somma in preventivo Cosa abbiamo comprato? Ma stiamo pensando ai nipotini più che altro Ah ecco, ok, approfittando dei saldi Brava Budget più o meno? Ma non abbiamo un budget, non abbiamo freni Attualmente non ho avuto modo di visionare i vari negozi, però un pensionino ce lo facciamo Cosa ha acquistato? Jeans, vestiti, magliette, qualcosa di utile per tutti i giorni Abbigliamento che già aveva docchiato prima dei saldi? Sì, 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 sicuramente, anche se ho accostato nuova collezione Ho notato che sta facendo un po' di giri nei negozi Più o meno il clima che si respira con questa stagione? Il primo giorno c'è un sacco di gente Un sacco di gente che fa le file Un sacco di gente che aspetta per misurare Poi comunque i negozi un po' più affollati ci sono Non sapevo fosse oggi il primo giorno dei saldi Meno male che me l'hai detto Allora prenderò a ruba tutti i negozi qui ad Avellino Cambiamo pagina, una fiore e una preghiera per Mimì Manso In occasione del secondo anniversario della scomparsa del 71enne muratore di Prata Domenica 8 gennaio I familiari si recrano presso la chiesa del Gesù Redentore Per deporre un fascio di fiori ai piedi della statua della Madonna dell'Annunziata Un gesto d'amore e di speranza per il proprio caro Di cui non si hanno più notizie dall'8 gennaio del 2021 Ma anche un segnale agli organi inquirenti Affinché la guardia resti alta su una vicenda che presenta ancora molte ombre Quattro sono le persone indagate dalla procura Per la scomparsa dell'uomo Nicodemo Gentile L'avvocato che assiste ai familiari Nonostante non ci siano tracce o indizi che portino alla scoperta del corpo di Manso Chiede intanto alla procura di avviare comunque un processo Adesso una breve pausa Tra poco di nuovo insieme con Telenostra Ci saranno gli aggiornamenti sul contagio da Covid in Irpinia